Sì, 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 no, non l'hanno fatto, il governo, ancora una volta, c'è sta crisi a papà, vuoi sapere cos'è la crisi di governo? E te lo spiego io, allora stai attento, quando all'asilo fate una festa, cosa succede? Giocate, 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 poi a un certo punto vi dovete mangiare la torta, che paghiamo noi genitori. Per mangiarvi la torta però vi dovete sedere su una sedia, no? Solo che se un altro bimbo ad esempio si vuole sedere sulla tua sedia, tu che fai se quella sedia serve a te per mangiarti la torta? Eh, siete bimbi, non vi mettete d'accordo, no? Litigate, buttate tutta l'aria, e chi paga? Noi genitori, questa è la crisi di governo, sacco di gente che litiga per una sedia dove mangiarsi la torta, e noi paghiamo. Eh, tu ridi, non lo capirai.